Una produzione VG Channel Si capisce che il Natale sta arrivando per noi di salute quando torniamo alla Gloriette, uno dei beni confiscati alle mafie che a Napoli è diventato un centro sociale polivalente dove i ragazzi vulnerabili vengono accolti tutti i giorni e ai quali viene data la possibilità di frequentare dei laboratori di manualità, di arte, di artigianato, di cucina per poterli poi eventualmente avviare anche al mondo del lavoro. Noi ogni Natale torniamo qui molto volentieri perché abbiamo seguito fin dall'inizio la storia e l'evoluzione della Gloriette, una storia che oggi addirittura diventa borgo la Gloriette con una serie di stand artigianali con i ragazzi vestiti per allestire un presepe vivente e adesso dalle parole dei protagonisti di questa giornata ne scopriremo di più. Eccomi con Gianluca Bove, coordinatore del servizio qui alla Gloriette. L'ho già preannunciato, questo Natale per i ragazzi e la Gloriette è un Natale particolarmente significativo, vero? Sì, oggi finalmente abbiamo la gioia di inaugurare questo borgo, Borgo Gloriette. Borgo Gloriette è un progetto che nasce da lontano. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto agli inizi di settembre, quindi per i ragazzi è veramente una giornata importante. Dico che inauguriamo questo borgo perché l'idea è quella di mantenere il borgo aperto per tutto il mese, quindi aspettiamo chi non è riuscito a essere qui con noi oggi dal 26 novembre al 23 dicembre per venirci a trovare e vedere il lavoro che hanno fatto i ragazzi in questi tre mesi. Sono lavori di manualità, lavori di creatività, queste sono attività molto importanti per i vostri ragazzi? I prodotti sono stati realizzati tutti dai ragazzi, ovviamente con l'aiuto dell'equip che lavora acquistabilmente. Sono stati realizzati tutti i prodotti dai ragazzi presepi, sia lavori di manualità come presepi o altri manufatti, palline per l'albero di Natale e decorazioni, sia lavori invece di creatività come dei quadri. Anche quest'anno abbiamo sperimentato delle nuove tecniche dei quadri che quindi abbiamo provato veramente a creare un qualcosa di importante per i ragazzi e per chi ci verrà a trovare. Bianca Ambrosio De Magistris è la responsabile delle attività che riguardano la cucina e l'enogastronomia qui alla Glorietta, mi sono innamorata di questo biscotto meraviglioso, di questo gnomo, questo è soltanto uno dei lavori che hanno fatto i ragazzi quest'anno. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che comunque le vostre leccornie si possono anche prenotare. Certamente, da oggi accettiamo le prenotazioni per Natale, ma sia delle cose culinarie, sia di oggetti di artigianato preparate con gli altri educatori e con tutti i ragazzi. Per quanto riguarda il tuo settore, che cosa avete preparato di nuovo? Abbiamo preparato i liquori di limoni rigorosamente raccolti sul nostro albero, liquirizia, gli ignomi di pasta speziata, delle tisane, degli alberelli, delle pizze di scarole, biscotti di tanti tipi. Senti, è vero, il vostro laboratorio è uno dei più ambiti e dei più frequentati? Sì, sì, devo dire un po' tutti. Io sono molto fiera perché poi mi piace cucinare, mi piace mangiare, mi piace trasmettere a loro questa passione. Angelica Viola è la presidente dell'Orsa Maggiore, che è la cooperativa che si occupa della gestione delle attività della Gloriette. Una grande soddisfazione. Voi tra mille difficoltà ogni anno ci regalate, regalate ai nostri ascoltatori, una soddisfazione grandissima, quella di vedere che i vostri ragazzi stanno crescendo. Per noi è emozionante avere ancora una volta una possibilità di protagonismo dei ragazzi che tutti i giorni frequentano questo centro, anche in una logica di integrazione. Stamattina sono con noi sì i giovani che frequentano il centro, ma anche tanti delle scuole che fanno volontariato. È un rilancio verso il futuro per noi. È la possibilità che integrazione e protagonismo veramente possono coesistere. E allora buon Natale. Auguri. Arrivederci da Aereoporto Internazionale di Napoli. Carpisa. Yamamai.